Buonasera, ben trovati in questo secondo spazio di Telebari Social Night, qui con noi sul palco del Teatro Forma. Ho il piacere di presentarvi il presidente della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Leonardo Patroni Griffi. Grazie presidente di aver accettato il nostro invito ad essere qui con noi. A questo punto lancerei l'RVM di presentazione di questa seconda parte. Da 140 anni Banca Popolare di Puglia e Basilicata è una comunità di persone che ci dà fiducia. Insieme siamo una banca equa, inclusiva e sostenibile. Siamo una banca attenta alle persone. Con passione e spirito di squadra promuoviamo la partecipazione e la crescita della nostra comunità e lavoriamo con un modello che ispira fiducia e integrità. Da oltre 140 anni la storia di ogni persona contribuisce a scrivere la nostra. Presidente, sentiamo sempre più parlare di buono stato di salute della Banca. Le cosa può dirci e da quali dati partire? Sono sempre stessi i dati, sia se la Banca è in buona salute, sia se non lo è. Perché io ho assunto la carica di Presidente di questa Banca nel momento in cui gli stessi dati erano non buoni. Si veniva in periodi di extra perdite, di molto difficili. Il primo bilancio che ho avuto l'onore di firmare portava un utile di a me appena 200 mila euro. Oggi, dopo nove anni di lavoro, un lavoro complicato e difficile, la semestrale, quindi neanche il bilancio finale, porta un utile di 25 milioni di euro. In più, i dati per noi più soddisfacenti sono un buon livello di capitale. Fu utile l'intervento anche del governo della vecchia legislatura, cioè dell'anno scorso, non della vecchia legislatura, che ha portato a capitalizzare le banche anziché tassarle. Perché vorrei ricordare che le banche fanno prestiti in base a un multiprove proprio capitale. Se tu pensi che l'economia, diciamo, andrà male nei prossimi anni, tutto devi fare tranne che tassare le banche, perché se no potranno dare meno credito all'economia. Gli altri indici sono ovviamente la liquidità, che è un indice importantissimo, perché le banche non falliscono mai per mancanza di capitale, ma per mancanza di liquidità. Quindi devi avere molta liquidità. Noi tutti e tre gli indici sono in ottimo stato attualmente. Complimenti per questo grande lavoro che state facendo. Direttore Mazza. Qual è lo stato di salute dell'economia pugliese? Beh, lo stato di salute dell'economia pugliese è difficile da dire in assoluto, perché si veniva fuori dalla pandemia ed è stato... l'economia pugliese ha avuto un boost veramente importante, ha avuto un più 5% di PIL nel 2022, più alto della media nazionale. Il 2023 è andato un po' meno della media nazionale, sono stati 0,7 anziché 0,9 e il 2024 più o meno va come, diciamo, va il resto d'Italia. Ma quello che è importante, secondo me, non è tanto come va, è quello che sta succedendo. Io credo che nell'economia pugliese ci sia una ricomposizione, una ristrutturazione del tessuto produttivo molto, molto forte. Cioè noi fra cinque anni, perché poi uno le cose le vede sempre retrospettivamente. Se tu fra cinque anni ti girerai a guardare quello che è successo, ti rendere conto che sono nate imprese che non esistevano, in settori che non c'erano. Quindi moltissimo digitale, moltissima ricerca, tutto l'aerospazio, tutte cose che noi non avevamo, o se avevamo, avevamo in maniera, diciamo, sporadica un'impresa qui, un'impresa là. Sta crescendo un tessuto produttivo, coeso, che secondo me nei prossimi anni darà molte soddisfazioni. Andrea. Propongo una sfida al Presidente, quella di raccontare per parole chiave, per keywords, anche nell'intento di avvicinare i più giovani al mondo della Banca Popolare. Quali sono queste parole chiave per raccontare la vostra realtà nel 2024? Bene, abbiamo detto prima, quando c'è stato l'RVM, di essere equa, inclusiva e sostenibile. Che diciamo, cosa vuol dire prima di tutto equa? Guardate, una banca in generale, ma una banca di territorio ancora di più, mantiene, ha una possibilità di sopravvivere in un ambiente molto competitivo, se mantiene la relazione a livelli molto alti. Quindi il rapporto deve essere di relazione. E un rapporto di relazione esiste se è un rapporto eco. Nel lungo periodo tutti i rapporti, ma guardi, anche se lei fa un ottimo contratto domani mattina, se non è eco, prima o poi qualcuno non lo rispetta, delle due parti. Quindi l'equità è un'equità proprio di porsi al servizio col cliente. Di essere inclusiva, una banca inclusiva, prima di tutto nel rispetto ai propri dipendenti. Nessuno si deve sentire escluso, chi è indietro deve essere portato a raggiungere gli altri, di essere inclusivo verso le donne, verso la parità di genere, di essere inclusivo verso i clienti, ma anche i clienti più svantaggiati. Una banca popolare fa questo, ha il proprio DNA, una sorta di mutualità, il fatto di essere in un certo senso, di ridistribuire ai propri clienti una parte della ricchezza, ai propri clienti e propri soci. E poi deve essere sostenibile. Oggi la sostenibilità è un concetto che c'è sempre stato. In realtà, quando noi discutiamo tra ottiche di breve o lungo periodo, discutiamo di sostenibilità. Ecco, la sostenibilità è sempre di lungo periodo, cioè guardare in un arco di tempo che sia più lungo del prossimo esercizio. Diciamo che devi guardare almeno a dieci anni, a cinque anni. Devi guardare così. Sei sostenibile solo se... ed è un valore. È un valore per te e per i tuoi azionisti, perché, voglio dire, hanno meno turbolenze se sei sostenibile, non hanno up and down. Ed è un valore in generale per la società, perché adesso poi questo concetto di sostenibilità si è ampliato, ha problemi climatici, ma tutte cose che impattano sull'azienda. Pensate a un certo punto a un'azienda che è esposta a un rischio climatico. È un'azienda, voglio dire, che ha dei rischi. E devono essere a un certo punto mappati, secondo me gestiti e in qualche maniera, voglio dire, monitorati. Presidente, com'è cambiato il ruolo della banca, ma soprattutto il ruolo della Banca Popolare di Puglia e Basilicata in questi anni verso le famiglie e anche verso le imprese? Beh, abbiamo detto prima, la banca deve avere in sé la relazione e allora ci si è interrogati in questi anni come poter avere una relazione in un mondo che diventa sempre più digitale. La prima cosa, perché se devo distinguermi dalla grande banca, che probabilmente ha meno relazione, è tutto sul digitale, ci sono adesso banche che sono totalmente digitalizzate, e mi posso distinguere solo se mantengo quel carattere, diciamo, di vicinanza al cliente e quindi, voglio dire, di una reazione attiva, come ho detto prima, equa e dove venga apprezzata sotto il profilo dei servizi. E quindi noi tentiamo di mantenere questo aspetto. È un aspetto importantissimo. È un aspetto importante, ma significa anche servire dei bisogni dei clienti, essendone quasi dei consulenti, ma tutto tondo, sia nel risparmio delle famiglie. E anche lì il risparmio, quando si danno consigli sul risparmio, bisogna sapere esattamente la propensione al rischio del proprio cliente, cosa vuole, se vuole un rendimento di breve e lungo periodo. Cioè bisogna fare l'interesse del cliente, avendone capito prima di tutto i bisogni. Per le imprese ancora di più, perché le imprese oggi hanno bisogno di avere una consulenza, diciamo, avanzata, ma soprattutto imprese piccole. Pensate che cosa è, diciamo, il cambiamento, diciamo, tutto climatico, tecnologico verso la sostenibilità ambientale e via dicendo. Io dire che adesso è in atto, beh, un'impresa piccola ha molte difficoltà a farsi. Cioè applicare i criteri ESG a un'impresa che ha fattorati intorno di uno o due milioni è complicato perché non ne ha le strutture, soprattutto, non riesce quindi a fare programmi pluriennali e quindi ha bisogno di un soggetto terzo che l'aiuti. L'aiuti in varie maniere. Noi, per esempio, una cosa che facciamo e faremo sempre di più è, voglio dire, dare delle condizioni di favore alle imprese che mirano verso una sostenibilità ambientale e energetica e via dicendo. Direttore Mazza, qual è la domanda che vuoi porre al Presidente Patroni Griffi? Vorrei sapere che programmi e che traguardi vi siete dati per i prossimi tre anni. Per i prossimi tre anni, diciamo, effetti geopolitici, diciamo, sterilizzati, perché viviamo il momento di incertezza. Il momento di incertezza in questo momento è dato non da un problema interno dell'economia italiana, ma è dato da problemi geopolitici molto, molto marcati, perché anche capire chi vincerà le prossime elezioni negli Stati Uniti o come finiranno le guerre in corso o altre tensioni, impatta su il business di tutti. Consiglio per chi non l'abbia avuto modo di leggerlo, però il rapporto Draghi, quello che è stato presentato diciamo alla Commissione, vede tutte le fragilità di un continente parcellizzato dove per la prima volta, secondo me, ma per il futuro sarà ancora maggiore necessità di fare scala, di fare massa. Quindi i paesi, secondo me, dovranno in questo essere molto, molto uniti. E quindi se io dico i prossimi tre anni, li vedo in questo momento, diciamo, a condizioni attuali. A condizioni attuali posso dire che dobbiamo continuare a crescere, dobbiamo continuare a crescere e quindi per quanto ci riguarda continueremo a migliorare sia i ricavi, ma anche, voglio dire, in questi momenti in cui tutto va bene, bisogna anche pensare ai costi, perché poi ci sono momenti in cui poi cambia improvvisamente. Quindi puoi fare ristrutturazioni, quando hai eccesso di capitale e che ti consente, voglio dire, di avere una maggiore efficienza. La seconda cosa che dobbiamo tentare di fare è quello che dicevamo prima, praticare noi stessi una sostenibilità, ma far sì che questa sostenibilità sia, voglio dire, fatta propria dai nostri clienti. Questo perché? Perché, un po' perché, voglio dire, siamo tutti buoni bravi, ma anche un po' perché questi criteri, in un acronimo ASG che significa ambiente sociale, governance, beh in realtà sono solo rischi, sono solo mappature di rischi, no? E allora per un banchiere o per chi fa banca, meno rischi hai, meglio è. Quindi un'impresa che è ESG compliance, è un'impresa che per la banca ha molte più probabilità di restituire proprio il prestito che è stato concesso. Andrea, so che tu vuoi far vedere un video? Sì, pensavo a una domanda, no, devo andare a fare ripetizione sul sole 24 ore, non sono ancora pronto. Siete riusciti in una mission, quella di unire l'eccellenza della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, a un'altra eccellenza, un nostro amico, il professor Schettini. Sentiamo insieme cosa da dire. Stamattina eravamo al polo liceale di Trigiano, siamo andate noi nelle scuole, oggi pomeriggio abbiamo portato le scuole in banca e oggi invece sperimentiamo questo nuovo format con Vincenzo Schettini. Si migliora, si cambia, si diventa più critici ed oggi serve alle nuove generazioni questo per essere anche meno fragili, per essere anche un po' più orientati verso le scelte che bisogna fare. Qual è il legame di questi due mondi? Prima di tutto una volontà di massimizzare sempre i risultati, lo dico scherzando, però quando abbiamo avuto l'opportunità di sponsorizzare il libro possibile, abbiamo tentato di comprendere come questa cosa non rimanesse lì fino a se stessa, ma potessimo in qualche maniera trasferire una parte dei concetti, delle riflessioni che si fanno in quel luogo alle scuole che sono i cittadini del domani. La scuola è il nostro territorio, l'anno scorso c'è stato Schettini, quest'anno ci sarà Vladimir Luxuria e via dicendo. Lo facciamo un po' per massimizzare, ma proprio come mission della banca. La mission della banca è far sì che il proprio territorio in cui opera sia, voglio dire, più formato, più ricco e più colto e quindi tutto quello che si fa non è che ha domani mattina un ritorno, non ce l'ha quasi mai, ce l'ha sempre nel lungo periodo, ma anche quello che noi facciamo per esempio ogni anno noi teniamo un abbo pugliese dell'Ambrosetti in cui si chiacchiera un po' di quello che si dice a livello nazionale, ma un po' dei problemi pugliesi. è fatto non perché quell'anno, ma perché ripetendo le cose, facendo sì che gli imprenditori si parlino fra di loro, eccetera, è quasi pedagogico, insomma, voglio dire, forse anche un po' arrogante a dire, però in realtà c'è una funzione sociale della banca e che la deve svolgere fino in fondo. Ovviamente questa funzione sociale riflette un po' i suoi organi, però secondo me è un compito che va fatto. Assolutamente. Presidente, oltre, diciamo, il fare banca, voi fate tante intervenite in ambito culturale sostenendo proprio la cultura del nostro territorio. Ebbè sì, è quello che dicevamo prima, facciamo anche qui una serie di iniziative, voglio dire. Noi abbiamo un'iniziativa che si chiama Popolarte, per esempio, che porta un'opera d'arte in tutta, l'ambizione in ogni nostra filiale. E un'opera d'arte sono, voglio dire, di artisti del territorio, sono di artisti, diciamo, internazionali. E poi... C'è la Lega del Filo d'Oro, ci sono... Quelle sono, voglio dire, cose, voglio dire, non culturali. C'è la Lega del Filo d'Oro che è una cosa splendida, devo dire, veramente c'è da fare i complimenti a loro perché io ci sono andato in punta di piedi a visitarli con imbarazzo perché in realtà tu entri in un mondo dove pensi sempre di essere di troppo, no? E quindi stai sempre sulla porta. Io mi volevo far entrare, io volevo stare sulla porta. Ma per un fatto di pudore e di rispetto. Questi sono bambini pluriminorati sotto il profilo sensoriale e quindi hanno bisogno dell'abbraccio, della carezza, eccetera. E però quando ti portano a vedere le loro stanze, tu hai sempre un po' di, secondo me, di pudore, di non invadere una cosa. Però loro sono meritori, sono dieci anni, più di dieci anni che li sosteniamo. Poi abbiamo fatto il basket in carrozzina, sono eccezionali. Voi fate tante cose sul sociale, siete molto attenti al sociale e questo vi fa veramente onore perché cercate di sostenere tutti con attenzione e anche, diciamo, con impegno. Sì, le anticipo una cosa. È a noi, per noi, importante. Tanto è importante che questa cosa vorremmo nel futuro renderla più strutturale attraverso una fondazione. Ci stiamo passando e spero di poterla costituire a breve. Direttore Mazza. Signor Presidente, le volevo chiedere un parere sulla desertificazione bancaria. Spesso si parla di questo problema per il Sud e per la Basilicata in particolare. Volevo sentire il suo parere su questo. È un problema vero. Un problema che, vabbè, cioè, prima di tutto uno deve sperare nella teoria economica dell'ultimo, no? Che l'ultima banca che è rimasta in quel posto alla fine trova conveniente rimanerci a fare banca. Quindi c'è la teoria economica che a volte funziona. A volte, a me, non funziona. Non funziona. E bisogna un po' pensare delle soluzioni alternative, ecco, per portare almeno una parte di quei servizi bancari in quelle zone. Perché quelle zone, alla fine, è rimasta la posta, se c'è rimasto. Sono zone molto difficili, ma è collegato a un problema, che secondo me è il problema dei problemi mai affrontato, secondo me, in maniera seria in questo paese, che è il problema dell'advento e dell'italità. Cioè, se non siamo meno, i paesi vengono abbandonati, forse una riflessione seria sull'immigrazione andrebbe fatta. Andrea. Quanto le piace la tecnologia? Molto. Dall'inizio del suo percorso ad oggi, i metodi di pagamento, i metodi con i quali abbiamo a che fare con i nostri soldi, sono super cambiati. Qual è la stupita più di tutti? Beh, guardi, sono tante. Io ho iniziato a lavorare, che quando arrivò il fax, mi sembrava già una cosa. Il fax, che adesso non c'è più il fax, nessuno sa che cosa sia. Però mi sembrò un passo avanti, questo foglio che arrivava immediatamente. Adesso ci sono delle cose che portano proprio a una facilità del servizio, no? E hanno degli effetti nei comportamenti più di quello che noi ci pensiamo. Per esempio, pagare col cellulare. Ah, è di una comodità che uno, già il fatto che non ti danno gli spiccioli di resto, è già una cosa positiva. E beh, questo porterà anche una maggiore fedeltà fiscale, probabilmente. Cioè, noi non ci rendiamo conto come alcuni fatti tecnologici poi hanno un impatto oltre il loro ambito per cui sono stati pensati. Quindi il fascino per la tecnologia è a livello da 1 a 10? Beh, allora il fascino è 10, la capacità di utilizzarla, mi do un 7, insomma. Che diventerà 10 molto più. Presidente, ultimissima domanda. Voi, insomma, avete una capillare di fusione in Puglia, Basilicata, Abruzzo e ora anche, diciamo, in Calabria. Quali saranno le prossime aperture? Ma guardate, noi abbiamo tentato di fare una cosa. Noi avevamo, per eredità, diciamo, una serie di sportelli sparsi in molte più regioni italiane, diciamo, dal centro nord in maniera significativa. Ma erano distanti tantissimo da uno dall'altro e di difficile gestione. Adesso, quest'anno, li abbiamo ceduti a un operatore locale di lì, con l'idea di rifocolozzarci ancora di più sui nostri territori. Quindi altre aperture probabilmente le faremo e speriamo di anche aiutare qualcuno che è rimasto senza sportelli bancari. Chissà, vedremo. Grazie, grazie Presidente Leonardo Griffi e Patroni Griffi della Banca Popolare di Puglia e Basilicata di essere stato qui con noi. Grazie al direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Mimmo Mazza, di essere stato qui con noi a commentare tutti i fatti più importanti. Andrea, allora ti lascio da solo come sempre. No, non sono da solo, sarò con un grande ospite sul palco del Teatro Forma. Rimanete sul 17.